Buonasera amiche, buonasera amici di Telecapri, il Napoli su Telecapri è la prima giornata qui a Di Maro Folgarida, siamo in piazza Madonna della Pace, si sta bene per ora ma inizia già a scendere un po' quello che è il fresco, io sono bello in t-shirt, lui invece al mio fianco ha messo la giacca per far vedere che è bello, preparato ma soprattutto per salutare tutto il pubblico presente, per Paolo Matrone, ciao per Paolo. Ciao Michele, un saluto a tutti i telespettatori, l'ho messo semplicemente perché so, io sono qui da ieri, so che tra pochissimo arriverà il freddo e quindi mi sono, ho prevenuto il freddo diciamo così. Ecco invece io sono arrivato da circa 60 minuti, anzi 59 minuti tra un po' è il sessantesimo, tempo veramente di una doccia veloce, siamo arrivati qui in piazza, alle nostre spalle arrivano già i primi tifosi, è arrivata invece la coppa dello Scudetto, è già lì presso lo store all'esterno del campo di Carciato, io ho avuto la fortuna di incrociare la macchina che la stava portando, non ho avuto ancora la fortuna di incrociare i calciatori azzurri che sono sbarcati a Verona? Ancora a Verona sì, a Verona sì a Di Maro no, sbarcati alle 17.20 in quel di Verona, poi in Pullman in questo momento si trovano in Pullman pronti ad arrivare qui a Di Maro, sotto l'hotel che ospiterà come tutti gli anni il Napoli a Di Maro, sono già pronti tanti, tantissimi tifosi ad accogliere tutta la squadra perché poi lo vedete anche dietro di noi, Di Maro è già piena di tifosi azzurri e tanti, tantissimi e altri ne arriveranno nei prossimi giorni. Esatto, sono attese centinaia e centinaia di presenze, il doppio si diceva nella fase di presentazione del ritiro di Di Maro Folgarida, così come lo sarà anche quello di Castel di Sangro, il doppio di presenze perché il Napoli quest'anno ha un tricolore stampato sulle nuove magliette, quelle presentate per Paolo, qualche giorno fa tante magliette sono state già vendute. Eh sì, perché lo store è aperto oggi all'esterno del campo di Carciato ed è stato subito preso d'assalto praticamente da tutti i tifosi presenti qui a Di Maro, ci sono tutte le maglie, anche quelle d'allenamento, abbiamo visto già diversi tifosi con i cappellini, c'è la novità di un pallone tricolore fatto da EA7 come sponsor chiaramente del Napoli, quindi sicuramente chi viene a Di Maro quasi sicuramente tornerà a casa con un cimelio, perché? Perché tutti gli oggetti marchiati SSC Napoli sono qui presenti nello store, ripeto abbiamo visto già tantissimi tifosi in fila all'esterno dello store, ci sono tante novità quest'anno a Di Maro, vedrete anche il trenino qualche volta passare alle nostre spalle quando ci sarà l'inquadratura larga, una delle tante novità di quest'anno a Di Maro, davvero un bel ritiro, già si sente un clima disteso chiaramente, di grandissimo entusiasmo e la squadra non è ancora arrivata, figuriamoci tra qualche ora, la squadra è prevista verso le 7 e un quarto, qui a Di Maro non immagino davvero l'entusiasmo, anzi l'euforia che ci sarà lì all'esterno dell'Otelo Rosazzi. Parlavi di una novità che è stata annunciata anche dal sindaco Lazzaroni, il sindaco di Di Maro Folgari, da quella del trenino che accompagnerà un po' i tifosi in giro per vedere le bellezze della Val di Sole che ci sta ospitando, che ospiterà in Napoli fino al 25 di luglio, e però un'altra bella novità riguarda proprio la destinazione del trenino, quello che è il campo di carciato che vedrà 1200 presenze e quindi è stata ampliata la tribuna. Eh sì, sono quasi il doppio i posti, abbiamo sentito ieri parlarne proprio qui a Piazza Madonna della Pace il sindaco Lazzaroni che davvero è entusiasta di tutto quello che è stato capace di fare qui a Di Maro perché poi ci sono tantissime altre novità, i tifosi sicuramente potranno essere più presenti agli allenamenti e alle partite perché ovviamente ci sono il doppio dei posti sul campo di carciato, sicuramente sarà importante ehm anche vedere quale apporto poi daranno durante le amichevoli eh quale sarà l'accoglienza che sarà riservata soprattutto ai nazionali che eh chiaramente arriveranno più in là perché hanno dei giorni di vacanza in più tra le novità chiaramente oltre alla tribuna abbiamo detto il trenino che davvero porterà eh tanti tifosi in giro per la città anche l'occasione per fare eh un giro panoramico delle bellezze eh qui a Di Maro eh sicuramente poi eh le novità non mancheranno anche all'esterno del campo di carciato poi ve le mostreremo anche eh domani eh in diretta lì dall'esterno del campo di carciato quando ci sarà l'allenamento abbiamo visto già eh gli scudetti disegnati in terra con chiaramente il numero tre eh per eh celebrare quello che è stato lo scudetto è un Di Maro che è tutto azzurro anzitutto e che è piena di scudetti quindi anche tricolore. Esatto anche perché eh guardandoci intorno ci sono già tanti tifosi che eh sono venuti a curiosare tante persone che affollano eh Di Maro Folgarida e quest'anno poi tante magliette azzurre eh e non perché ci sono anche quelle che sono le maglie celebrative, quelle che hanno in qualche modo festeggiato ehm i tifosi. Sì mi dicevano prima dallo store che la maglia più gettonata in questo momento è quella classica bianca con lo scudetto e il tre quella che abbiamo visto. Esatto. Campioni. Esatto. Esatto. È quella che abbiamo visto da da maggio in poi. esatto. E lo possiamo dire anche perché abbiamo festeggiato un bel po' di settimane, un bel po' di domeniche e un bel po' secondo me festeggeremo ancora non solo qui a Di Maro ma anche per l'inizio del campionato. Campionato che inizierà il diciannove agosto il Napoli sarà impegnato a Frosinone contro la neopromossa eh squadra ehm Ciociara però prima del diciannove agosto per Paolo entriamo subito ehm voglio entrare in tekel con te anche perché so che sei esperto di calciomercato so che anche stasera sarà in onda su Telecapri con il direttore Paolo Del Genio a partire dalle ore ventuno sempre qui in diretta e in esclusiva da Di Maro Folgarida tra un po' sentiremo magari anche il pubblico presente alle nostre spalle magari anche quelli che sono a casa comodamente seduti o quelli che sono ancora in campania che stanno soffrendo il caldo siamo partiti che c'erano veramente quasi 40 gradi a Bologna faceva un caldo esagerato siamo arrivati qua possiamo dire che si sta bene l'argomento principale è il calciomercato c'è ancora chi spera che Kim non vada al Bayern Monaco ma diciamo che Kim ormai sì è impossibile che resti tra l'altro domani scade la clausola di risoluzione la clausola per per andare all'estero fa un po' strano devo dire che ancora non è stato ufficializzato questa cessione perché appunto domani scade la clausola quindi entro domani il Bayern deve mandare i soldi il bonifico al Napoli è stata già attivata quindi meglio chiarirlo l'affare non è a rischio il difensore andrà via purtroppo dal punto di vista tecnico per fortuna da quello di vista economico poi ovviamente da quel momento in avanti si aprirà il casting anzi il casting è già aperto ma si affonderà poi per qualche per qualche difensore perché chiaramente se c'è un'impellenza un'urgenza di mercato quello è sicuramente il sostituto di Kim perché perché poi da domani cominciano cominciano gli allenamenti e c'è tanto lavoro tattico da fare con un allenatore nuovo Rudi Garcia allora la domanda è d'obbligo la domanda è d'obbligo per te perché il Napoli deve sostituire Kim lo sostituirà con un italiano e quindi Scalvini per esempio oppure lo prende ancora dal mondo orientale si va in Corea si va in Giappone dove si va io credo che si possa andare in Premier League se devo dire qual è il nome in cima alla lista del Napoli credo sia quello di Max Killman il difensore del Wolverhampton c'è stata questa offerta da 35 milioni di euro rifiutata però dal club britannico che chiede 41 milioni di euro perché deve corrispondere 7-8 milioni ad un altro club di quinta divisione inglese quindi un club della non league si chiama così per appunto accordi precedentemente fatti di conseguenza il Napoli deve aumentare un pochino l'offerta se vuole prendere Max Killman che secondo me è la prima scelta secondo quello che ci arriva anche dalla società è la prima scelta per il post Kim però chiaramente sappiamo benissimo il modus operandi del Napoli qual è c'è un difensore in cima alla lista ma ce ne sono altri 7-8-9 alle sue spalle quindi se non dovesse andare in porto alla trattativa per Killman si dipende il nome di Max Killman e si va sul secondo che potrebbe essere Lenormand che potrebbe essere Itacura quindi l'orientale di cui parlavi tu c'è anche Scalvini ma non credo che l'Atalanta lo ceda perché ha una valutazione che va al di sopra dei 40 milioni di euro e il Napoli non spende tanto per un difensore italiano classe 2003 che comunque non ha grandissima esperienza sebbene sia sicuramente un grandissimo prospetto ripeto Killman in cima alla lista in ordine direi poi Itacura Lenormand questi sono i tre nomi più caldi in questo momento anche perché De Laurentiis ci ha abituati no mille nomi e poi ne tira uno che non era mai stato fatto un po' come col direttore sportivo esatto esatto diciamo che ci sta depistando tutti quindi diciamo che quelli che vogliono provare a indovinare le mosse del presidente sbagliano sicuramente più difficile del super enalotto assolutamente perché De Laurentiis sembra anche che ci abbia un po' preso gusto perché ad esempio non appena è stato fatto il nome di Massara nel giorno in cui è stato fatto per la prima volta il nome di Ricky Massara per il ruolo di direttore sportivo il pomeriggio ha preso e ha annunciato Mauro Meluso come DS che comunque è un DS sicuramente molto bravo e pieno di esperienza dal punto di vista invece del difensore credo che qualche nome ancora non sia venuto fuori questo è poco ma sicuro anche perché poi sappiamo benissimo come lavora il Napoli poi quindi la sorpresa è dietro l'angolo credo però che se davvero il Napoli potesse prendere Killman andrà a prendere Killman perché ha tutte quelle caratteristiche che si sposano bene con il calcio che vuole fare il Napoli con i dettami tattici di Rudy Garcia sebbene ancora non li conosciamo benissimo è un giocatore un po' simile sia un po' a Koulibaly sia un po' a Kim perché comunque uno di quei là che va sull'anticipo che pressa alto bravo anche con i piedi quindi nella costruzione dal basso di conseguenza credo davvero che quello sia il nome in cima alla lista poi staremo a vedere non ti voglio interrompere ma stiamo inquadrando quello che è il trenino che abbiamo citato pochi minuti fa le nostre spalle c'è il trenino che accompagna i tifosi i turisti presenti qui a Di Maro Folgarida fino al campo di Carciato ma prima permette a tutti coloro che ci salgono su di guardare quelle che sono le bellezze di questo splendido posto che ospita per la tredicesima volta se non erro il Napoli quindi siamo contenti di ritornarci ancora una volta prima grazie anche alla regia la fantastica squadra che ci metterà in onda fino al 25 di luglio di Telecapri abbiamo inquadrato anche quello che è l'omaggio che Di Maro Folgarida ha fatto ai campioni azzurri c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo con tutti i suoi compagni di squadra in questo maxi poster che accoglie tutti coloro che verranno qui in piazza Madonna della Pace. Dov'eri quel giorno tu? Non è l'unico e io ero a casa a lavorare in redazione a lavorare credo il giorno in cui sarà sollevata la coppa sì il giorno in cui è stato vinto lo scudetto matematicamente no tra l'altro questo questo maxi poster che vediamo qui è in giro un po' per tutta la città perché anche non appena si entra a Di Maro non appena si arriva a Di Maro c'è il cartellone con scritto Di Maro e subito dopo accanto c'è appunto. Eravamo rimasti con quello della Champions c'era il Napoli europeo della Champions di un po' di anni addietro finalmente abbiamo sostituito quell'immagine con questa che ci piace molto di più tra un po' andiamo a interrogare questo pubblico presente alle nostre spalle che sono vivi non sono cartonati eh fate un saluto a casa ecco sono vivi sono vivi quindi ci sono sono tutti presenti alle nostre spalle ehm però un'altra domanda te la devo fare di calciomercato perché poi adesso arriva in Napoli adesso arrivano un bel po' di giovani che faranno eh da numero e poi ovviamente andranno via ritorneranno o con la primavera o verranno girati in prestito ad altre squadre arriveranno i big tra il 18 e il 20 di luglio l'ultimo che dovrebbe arrivare è eh Victor Osimena il più atteso il più atteso il presidente ha detto che non meno di 200 milioni eh quindi non si siete a parlare con nessuno appena sono arrivato ho salutato un amico e la prima cosa in assoluto non mi ha detto neanche ciao ma è l'ultima volta aspettavamo uno e ha fatto le visite mediche di nascosto e poi andato a Torino insomma stavolta non succede no a Torino sicuramente no se poco ma sicuro non possono permetterselo ma in in generale credo che possiamo aspettarlo davvero tutti qui perché anche se dovesse essere ceduto è una cessione che comunque non si fa dalla mattina alla sera visti tanti soldi in ballo ad oggi comunque è molto più probabile che il giocatore venga eh venga ehm qui a Di Maro e che soprattutto resti per la stagione successiva qui al Napoli perché perché De Laurentiis ha posto questo prezzo altissimo 200 milioni eh di euro certo è anche un po' una provocazione verso verso le big molto dipende però secondo me da PSG Mbappé perché perché chiaramente se Mbappé va via quest'anno e quindi il PSG dovesse incassare una bella cifra credo che poi eh la formazione allenata da Luiz ehm Luiz Enrique potrebbe sicuramente andare su Simen anche colleghi dalla dalla Francia ce lo dicono quindi attenzione soltanto a questa pista per il resto però perché non voglio dare brutte notizie voglio dare belle notizie tutte le altre secondo me le possiamo depennare il Bayern Monaco non c'è più e si è eh stromesso dalla corsa sta andando su Kane sta provando a prendere Henry Kane le big di Premier neanche possono permetterselo praticamente questo giocatore visto che comunque hanno alcune di loro dei problemi finanziari di conseguenza l'unico resta soltanto il PSG l'unico spauracchio è il PSG quindi speriamo tutti e dentro il trentuno di luglio si saprà che Mbappé resti al PSG così il Paris Saint Germain non dovrà sostituirlo e non potrà prendere così meno. E invece eh Lozano e Zielinski e dopo di questo ci fermiamo per qualche istante di pubblicità resteranno ancora con noi un altro anno di contratto per Zielinski o lo vediamo o forse non lo vediamo neanche arrivare qui a Di Maro? No io credo che Zielinski allora eh Lozano è già tra i convocati eh non non so se si arriverà subito probabilmente sì anche se non è al meglio dal punto di vista delle condizioni fisiche Lozano lo vedremo sicuramente. Zielinski immagino lo stesso sebbene eh è vero che c'è questa offerta dalla 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 Arabia Saudita trentasei milioni di euro in tre anni quindi dodici milioni di euro a stagione che è praticamente il triplo rispetto a quello che guadagna al Napoli ed è verissimo che è di fronte ad un video proprio come Lozano o rinnova o va via perché De Laurentiis non vuole tenere calciatori in scadenza con il rischio di perderli a zero praticamente tra sei mesi perché tra sei mesi sarebbero liberi di accordarsi con un altro club di conseguenza entrambi o rinnovano o vanno via se Zielinski nonostante ci sia questa offerta dalla rabbia secondo me va più corre più verso la permanenza e quindi verso il rinnovo di contratto perché è ben disposto ad accettare un rinnovo a ribasso dunque a cifre più basse rispetto a quelle attuali Lozano si attende qualche offerta credo che il Napoli voglia voglia cederlo anche il presidente De Laurentiis ha mandato un messaggio abbastanza chiaro che non va decifrato agli agenti di questi di questi ragazzi in scadenza 2024 credo che il messaggio fosse rivolto prettamente a Lozano credo che il Napoli se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro lo impacchette e lo porta subito anche per risparmiare 4 milioni e mezzo di ingaggio se serve poi un autista per cercare magari di trovare lavoro lì eh con qualche sceico ci possiamo proporre anche noi allora ragazzi in bassa frequenza vedo eh già qualche nostro inviato che è lì fuori al Rosatti in attesa dell'arrivo del Napoli e c'è già un bel po' di eh tifoseria presente per accogliere eh una parte dei campioni d'Italia perché un'altra parte arriverà nei prossimi giorni ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo ovviamente in diretta da piazza Madonna della pace qui a Di Maro per il Napoli su Telecapri due minuti alle diciannove siamo in diretta qui da piazza Madonna della pace di Di Maro Folgarita per quello che è l'inizio del ritiro precampionato la prima parte di ritiro che si svolge qui in Val di Sola del Napoli campione d'Italia Napoli che sta per arrivare eh qui in Trentino seguiremo forse in diretta noi il tutto oppure se non lo seguiremo noi ci saranno le immagini eh registrate con tanto di commento a partire dalle ore ventuno perché in alle ventuno chi c'è in diretta? Ci sono io ma non è vero c'è Paolo del Genio che è più importante sicuramente rispetto rispetto a me eh saremo in diretta alle ore ventuno e nel frattempo qui eh in bassa frequenza vediamo che ci sono già tantissimi tifosi alla ad accogliere eh il Napoli vedremo se riusciremo a darlo noi in diretta noi un pochino ci speriamo no Michele? Esatto adesso lo stiamo facendo vedere anche eh agli amici che ci stanno seguendo a casa dobbiamo salutare anche tutti coloro che ci seguono attraverso le pagine social di Telecapri e non solo perché eh c'è questo nuovo eh modo di seguire eh le dirette qui eh a Di Maro Folgarita anche attraverso il portale di Campania Like sia sui social che su YouTube un amico prima durante la pubblicità si è fermato a parlare con noi ha chiesto una curiosità tu l'hai un attimo guardato l'hai folgorato gli hai detto non è possibile cosa ha chiesto? No ci è stato chiesto se... Anzi aspetta ce l'abbiamo qua vieni qua Allora prego prego vieni in diretta vieni in diretta Così come ti chiami prima di tutto? Francesco Allora Francesco cosa hai chiesto prima? Chiesto ho chiesto cioè hanno dato una notizia da parte di Sky che non veniva pagata la clausola escessore di Kim entro poi la mezzanotte Ecco Ho chiesto se era una cosa per se avevate voi informazioni insomma No è impossibile perché la clausola è stata già attivata si attende semplicemente il bonifico che arriva da Monaco direttamente sul conto bancario del Napoli quindi la clausola ripetiamo è già stata attivata va soltanto, atteniamo soltanto il bonifico ma non credo ci siano problemi da questo punto di vista d'altronde poi rispetto a tutto quello che ci arriva all'interno della società con questo casting aperto per il difensore centrale credo sia abbastanza impossibile quindi ho controllato, ho verificato perché mi ha fatto un po' spaventare però no, non è così Kim andrà via che ripeto alla fine è una fortuna dal punto di vista economico ma una sfortuna dal punto di vista tecnico perché puoi trovarne difensori come Kim Minjè quindi staremo a vedere Napoli chi sceglierà tu ti dispiace dell'addio di Kim? tanto, tanto perché si è dimostrato veramente forte veramente forte non era semplice sei fiducioso nell'operato del Presidente del Napoli del nuovo direttore sportivo ma sono i numeri che danno questa fiducia insomma non approvo il fatto siamo troppo catastrofici queste cose qua sono i numeri insomma che parlano da sole grazie forza Napoli sempre questo è diciamo l'esempio Pierpaolo di quelli che sono i tifosi del Napoli perché c'è chi magari è preoccupato dell'addio magari di Kim di qualche altro nome che potrebbe andare via chi invece come l'amico Pocanzi ha detto non dobbiamo essere assolutamente catastrofici e credo che De Laurenti si abbia guadagnato credito pressoché infinito dopo la vittoria dello Scudetto attesa 33 anni quindi sicuramente possiamo fidarci possiamo star tranquilli anche perché è vero è andato via Cristiano Giuntoli che comunque era una figura importantissima per il Napoli però il reparto scout è rimasto sempre lo stesso ci sono Michele Mantovani Michele di S. Inpector è stato di S. Inpector in questo periodo in cui non c'è stato Meluso adesso c'è Meluso a lavorare con loro il reparto scouting è sempre lo stesso il Napoli lavora sempre alla stessa maniera di conseguenza non c'è da preoccuparsi il Napoli sostituirà sicuramente con un difensore buono e probabilmente anche più giovane di Kim lo stesso sudcoreano io ricordo l'anno scorso qui a Di Maro con Paolo Del Genio che salutiamo eravamo qui a vedere i video di Kim perché Kim era praticamente uno sconosciuto e non solo lui esatto e non solo lui perché anche Kvara per esempio con Araschelia nessuno lo conosceva noi facevamo un gioco l'estate scorsa a come si chiama il numero 77 del Napoli eh sì nessuno sapeva pronunciarlo adesso siamo diventati tutti bravissimi è davvero tutti madrelingua giorgiana tutti madrelingua giorgiani tra l'altro Napoli è diventata la metaturistica più gettonata della Giorgia quindi questo scambio interculturale ci porterà anche a imparare il giorgiano magari comunque in generale scherzi a parte possiamo stare assolutamente tranquilli possiamo stare tranquilli dobbiamo stare tranquilli un altro addio eccellente è stato quello di Sinatti che era il preparatore atletico della Napoli degli ultimi anni adesso oltre ad essere tutti esperti come direttori sportivi tutti esperti di tattica e quindi tutti allenatori adesso siamo tutti preparatori atletici tutti che ci preoccupiamo dell'addio del preparatore atletico degli ultimi anni del Napoli Sinatti però fino a oggi nessuno forse dava merito anche a lui credo che siano in pochi anche quelli che conoscessero il nome prima di che venisse ufficializzato anzi ancora non è stato ufficializzato visto che si parla prima che si parlasse di questo di questo addio al posto di Sinatti però arriva Paolo Rongoni uno storico collaboratore di Rudy Garcia che comunque è un grandissimo professionista ho parlato anche con una persona abbastanza vicina a Rongoni mi diceva mi spendeva soltanto parole al miele per lui quindi anche da questo punto di vista credo che possiamo stare abbastanza tranquilli il Napoli è rimasto pressoché lo stesso l'ossatura del Napoli è sempre la stessa è vero è andato via qualche qualcuno dal punto di vista dello staff tecnico è andato via Cristiano Giuntoli sono andati via due calciatori Don Belè e Kim ma davvero alla fine poi l'ossatura è sempre la stessa quindi non dobbiamo preoccuparci l'ho detto già tre volte ma dobbiamo ribadirlo perché ricordo l'anno scorso qual era il clima a queste latitudini ricordo un ritiro che era agli antipodi rispetto a quello che stiamo vivendo adesso quindi non ripiombiamo di nuovo in quel clima lì perché davvero è un clima disfattista che non fa bene a nessuno e soprattutto non si può fare in questo momento che la squadra è campione d'Italia esatto esatto anche perché l'anno scorso c'era davvero proteste a go go c'erano proteste in ogni in ogni luogo in ogni lago per citare una canzone di qualche anno fa i tifosi erano in qualche modo arrabbiati delusi dall'operato della società ricordiamo in Napoli la scorsa estate ha perso pezzi importanti come per esempio Calidu Koulibaly e aveva preso uno sconosciuto ai molti quale è stato Kim miglior difensore della serie A di quella che ha visto il Napoli trionfare quindi niente disfattismo dobbiamo stare vicini ovviamente alla squadra anche perché poi perdendo Kim ne abbiamo perso uno non è che ne abbiamo cambiati 23 di quelli che hanno vinto eh sì questo è anche un po' per rispondere a chi dice e non solo i tifosi parlo anche di addetti ai lavori a chi dice che il Napoli è un pochino in ritardo sul mercato questo perché lo dicono perché vedono magari che l'Inter ufficializza Bissec Turam e Frattesi vedono il Milan che prende Pulisic vedono la Roma che prende Awar di K però quelli sono club che hanno venduto già pedine importanti il Milan ha venduto Tonali l'Inter ad esempio ha perso Dzeko comunque sono persone l'Inter ha perso anche uno dei migliori portieri sta per perdere Onana ha perso Andanovic in maniera ufficiale quindi deve prendere due portieri mentre il Napoli ha preso di portieri sta messo bene il Napoli sta messo molto molto bene ecco dove volevo andare a parare era andato via il secondo portiere ma giusto per qualche giorno perché tra pochissimo tornerà e sarà lo stesso per Luigi Gollini tornerà a Napoli lo vedremo anche qui a Di Maro perché il Napoli ha raggiunto un accordo con l'Atalanta per un nuovo prestito con diritto di riscatto prestito che secondo quello che mi risulta almeno è da 500 mila euro diritto di riscatto a 7 milioni di euro nel pomeriggio c'è stato lo scambio dei documenti tra i club tra domani e dopodomani il giocatore sosterrà le visite mediche e poi potremo accoglierlo qui a Di Maro una bellissima notizia anche questa perché poi è vero si tratta del secondo portiere però non dobbiamo dimenticare che ad esempio un anno fa si parlava anche di Meret Via si parlava anzi fino ad agosto si è parlato di Meret Via di conseguenza c'erano tanti nomi stesso qui a Di Maro noi parlavamo di una Kepa per esempio tra i tanti portieri che potevano Navas sembrava fatta praticamente Navas esatto e quindi ogni giorno c'era un nome che veniva dato come portiere titolare del Napoli stiamo facendo nel frattempo come la palina di ping pong sponda da quello che è l'esterno dell'hotel Rosatti dove dovrebbe arrivare a breve il Napoli e qui da piazza Madonna della Pace di Di Maro Folgari da dove siamo in diretta con il Napoli su telecapli insieme a pochi tifosi perché appena abbiamo detto sta per arrivare in Napoli ci hanno abbandonato per andare lì a guardare a vedere ad applaudire quelli che sono i beniamini azzurri una parte dei beniamini azzurri perché ricordiamolo per Paolo il resto della troupe a disposizione di mister Rudy Garzia arriverà tra il 18 e il 20 e oggi si parlava addirittura anche di un interessamento politico per Edo De Laurentiis c'è stata poi una nota presso smentito presso smentito si era detto che c'era questa possibilità che Edoardo De Laurentiis il vicepresidente del Napoli potesse candidarsi alle prossime elezioni europee con il PD una notizia presso smentita dal Napoli De Laurentiis Junior è sicuramente concentrato come il padre sul Napoli anche perché poi lo conosciamo anche off record chiaramente sappiamo che ci tiene ad essere qui a Di Maro gli piace molto la località quindi lo attendiamo anche lui anche lui qui probabilmente sarà anche lui con la squadra o comunque arriverà nei prossimi giorni non so se hai sentito per Paolo il questore di Trento Maurizio Improta l'ho letto stamattina per correre dello sport esatto perché ha rilasciato queste dichiarazioni appunto al correre dello sport se arresterei Osimène no per carità però gli metterei le manette per tenerlo al Napoli è una notizia simpatica curiosa ma soprattutto dimostra l'importanza di Victor per questo Napoli eh sì dimostra anche il fatto che questo re di Trento è un grande tifoso del Napoli quindi è un modo in più per sentirci a casa qui in Trentino in Trentino quindi davvero una bella battuta io ho letto tutta l'intervista diceva addirittura che i primi due scudetti lui l'ha vissuti sul campo quindi davvero grande tifoso del Napoli dice anche che appena può ci verrà a trovare magari riusciremo anche a beccarlo noi in diretta qui dal Napoli su Tele Capri ve lo porteremo in diretta e ci mostrerà la sua fede comunque il fatto che anche un questore dica che Victor Rosimene è un giocatore così importante la dice lunga su quanto i tifosi ci tengano alla permanenza ma secondo me guarda i tifosi non sono gli unici a tenerci secondo me il presidente dell'Aurentis in primis che non vuole cederlo gli 200 milioni di cui parla sono secondo me una provocazione perché nella sua testa secondo me poi magari posso essere smentito ma nella sua testa questo Napoli rimanesse così com'è con un sostituto all'altezza di Kim è un Napoli che può puntare anche alla finale di Champions League secondo lui secondo le sue idee poi se devo dire quello che penso io il Napoli l'abbiamo detto più volte qui al Napoli su Tele Capri con Paolo Del Genio la Champions è una monetina anzi più che noi io e Paolo Del Genio l'ha detta Pep Guardiola questa cosa che è una cosa più importante quindi la Champions è una monetina però davvero dell'Aurentis è convinto che avendosi Manne e Quadascale insieme uno dei tandem migliori d'Europa e lo dicono lo testimoniano nei numeri dell'ultima stagione possa giocarsela contro chiunque quindi se dovesse poi andare bene questa monetina e dovesse uscire sempre il lato scelto da lui il Napoli davvero potrebbe arrivare anche in finale di Champions League con Ozyman per questo secondo me lui vuole tenerlo Ozyman sono abbastanza convinto di questa cosa poi si arrivano davvero 200 milioni di euro che dobbiamo fare? E allora noi auguriamo le migliori fortune a Victor però speriamo di no fuori al Rosatti in attesa dell'arrivo del Napoli ci sono tanti difusi ma vediamo anche presenti tante unità delle forze dell'ordine e appunto il questore in prota il questore di Trento ha detto che ci saranno un bel po' di forze dell'ordine dispiegate durante il ritiro del Napoli non perché Di Maro debba essere una città una cittadina militarizzata ma semplicemente perché si prevedono tantissimi tifosi in arrivo soprattutto per il fine settimana oggi è venerdì quindi da domani mattina che iniziano gli allenamenti sul campo di carciato sappiamo benissimo che quella tribuna di 1200 posti a sedere sarà occupata da tantissimi tifosi vediamo un po' di minivan che arrivano non sappiamo non credo che siano i van che portano in Napoli perché siamo abituati a vedere il Napoli arrivare con due pullman grandi però questo minivan forse è uno dei rosatti quello che porta di solito in giro i carciatori dall'hotel al campo sì 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 molto molto probabile poi chiaramente c'è tutto lo staff non quello tecnico proprio tutto lo staff logistico che arriverà insieme al Napoli quindi sicuramente ci saranno ancora altri van secondo me che arriveranno prima del Napoli anche se davvero siamo a minuti perché sono le 19.11 considerando che il Napoli è atterrato alle 17.20 a Verona ci vogliono un paio d'ore da Verona a Di Maro siamo davvero agli sgoccioli siamo per accogliere il Napoli noi speriamo di riuscire a darvelo in diretta le immagini di questo sbarco qui a Di Maro se non dovesse essere così chiaramente come vedete anche voi registreremo le immagini e le manderemo poi in diretta stasera insieme al direttore Paolo Del Genio ci fermiamo per qualche istante di pubblicità poi ritorniamo per l'ultimo blocco del Napoli sul Telecapri nel frattempo però sguinzagliamo il nostro miglior segugio per capire il Napoli dove sta e poi ovviamente ve lo diciamo appena rientriamo a tra poco torniamo in diretta ci ha raggiunto anche il direttore dello sport di Telecapri Paolo Del Genio abbiamo detto sguinzagliamo Pierpaolo il miglior segugio per farci dire dove è il Napoli è arrivato Paolo Del Genio che ci ha detto il Napoli non arriva adesso alle 8 mi sembra di aver capito noi eravamo fiduciosi di darla in diretta questa riva del Napoli invece lo caratteri alle 18 sono a 18 che ore sto 17 e 20 sono atterrati però sono voi partiti alle 18 esatto quindi un paio d'ore da avere una qui alle 8 va bene va bene vedrete le immagini alle 21 con Paolo infatti chi c'è Paolo abbiamo detto tanti giovani penso li avete detto sono tanti giovani 12 primavera sono aggregati il ritiro gli argomenti sono tanti quindi il ritiro inizia oggi per noi con la nostra programmazione quello del Napoli mi sembra che possiamo dire che il ritiro di Telecapri inizia oggi questa trasmissione è partita più tardi alle 21 avremo la nostra diretta e quindi avremo la possibilità di interagire con voi con le telefonate con i messaggi e quindi stasera prima puntata alle 21 non mancate il ritiro nostro inizia oggi quello del Napoli mi sa che inizia verso martedì da che punto di vista inizia martedì anche da un punto di vista tecnico tattico io penso che noi dobbiamo essere molto cauti nel dare un giudizio su quello che farà Garzia ma soprattutto in questi primi giorni ci dobbiamo stare completamente zitti su quello che farà Garzia perché che deve fare farà fare un po' di allenamento ai ragazzi a quelli che ci sono in attesa che arrivando gli altri da martedì mercoledì possa iniziare e possa iniziare a farci vedere qualche cosa da un punto di vista tecnico da un punto di vista tattico ecco Paolo noi parlavamo prima di calciomercato parlavamo dell'entusiasmo che c'è stato qualche ora fa presso lo store all'esterno del campo di Garciato dei tifosi azzurri perché è arrivata anche la coppa della vittoria del campionato esatto dello scorso anno però adesso parliamo un attimo con te cosa ci dobbiamo aspettare di questi primi giorni nulla ma di questo ritiro da martedì da martedì dobbiamo vedere Garzia come lavora ora non è facile vedere subito le differenze qualcosina potremmo captare non è facile vedere subito le differenze ammesso che ci siano e che siano rilevanti con Luciano Spalletti ma poi ragazzi quando arrivano determinati giocatori possiamo vedere più cose se fa qualche prova qualche esperimento anche se a me con i numeri non piace più tanto giocare detto da me so che può sembrare strano ma con i numeri non mi piace più una volta forse mi piaceva giocare adesso con i numerini non ci gioco più tanto però per semplificare giochiamo con i numerini vediamo se farà più spesso il 4-2-3-1 invece che il 4-3 rispetto a Spalletti non rispetto al 4-3-3 che resterà il sistema di base vediamo se fa il 4-3-3 se non si piglia la prima cazziata da De Laurentiis perché la Renzi bisogna fare il 4-3-3 punto e basta e quindi la prima cazziata dopo 2 la prima conferenza della Laurentiis ma sto Garzia che vuole con sto 4-2-3-1 l'ho preso perché fa il 4-3-3 non lo so ci dobbiamo aspettare di tutti il presidente arriverà ovviamente molto sovrecitato perché vivrà un ritiro clamorosamente diverso rispetto al ritiro dell'anno scorso dove lo possiamo dire senza agire di parole non poteva uscire dall'albergo invece adesso secondo me sarà difficile che sarà un minuto in albergo perché non si vorrà perdere il bagno di folla e tutti gli attestati di stima che riceverà perché nel calcio noi parliamo facciamo le trasmissioni c'è una cosa che regna sovrana il risultato esatto il risultato che non arriva per quelli che fanno 10.000 nomi Paolo non azzeccano neanche uno quindi mi dispiace per tutti coloro che cercano di indovinare le mosse del presidente ma non ci riescono prima per Paolo diceva è più facile forse fare un 6 all'enalotto che indovinare le mosse di De Laurentiis diciamo che i giornalisti tattici quelli che vogliono fare i giovani che vogliono fare i giornalisti tattici hanno un riferimento molto difficile da superare io giusto? dove lo trova? come fanno a superare me? i giornalisti come Pierpaolo Matrone venga Pierpaolo che invece decidono di fare i giornalisti di mercato secondo me non ci vuole niente a superarli quelli che lo stanno facendo adesso in mercato perché li sbagliano tutti Pierpaolo se ne indovina uno già ha vinto mi auguro che tu l'abbia indovinato da qui alla fine del calcio è un compito agevole uno lo indovinerà Pierpaolo infatti facciamo un melting pot visto che poi comunque si fanno brutte figure chiunque voglia fare il giornalista di mercato fa brutte figure con il Napoli quindi è più facile fare meglio di quelli che ci sono però comunque è complicato fare bene perché comunque depistano tutti mi comprendo no depistano più che depistano hanno proprio chiuso tutte le porte c'era una porticina aperta l'hanno chiusa quella porticina aveva un nome un cognome ed era una porticina che si apriva solo per pochi devo farlo oppure no no fallo fallo se è padrone il nome di quello che ogni tanto apriva la porticina era quello di Cristiano Giuntoli che aveva per le sue passate frequentazioni nelle categorie minori dei rapporti molto stretti con alcuni giornalisti che hanno frequentato molto le categorie minori e quindi il rapporto era continuato nonostante poi una volta arrivato nel Napoli gli avevano detto però piano piano perché noi come nostro proprio diciamo modo di intendere il rapporto con i giornalisti siamo molto chiusi ha detto il Napoli però lui aveva dei rapporti proprio personali molto profondi e quindi qualcosina doveva uscire adesso la questione il discorso lo chiudo in tre secondi è capire Meluso che tipo di rapporti ha con questi padroni del mercato che che pretendono di avere notizie se sarà più forte il rapporto interpersonale che non conosco di Meluso con qualcuno di loro sarà più forte il rapporto che vorrà che Meluso nuovo che vorrà che Meluso avrà con tutti i giornalisti che si occupano di mercato De Laurentiis il rapporto che De Laurentiis vuole che Meluso abbia ti sta zitto totalmente comunque il portiere di casa mia vi dico che è parente della zia di Meluso quindi stai a posto per avere tutte le notizie tranquillamente in bassa frequenza vedo due personaggi Paolo non so se sei d'accordo o meno di farci raccontare quella che è l'atmosfera lì all'esterno del Rosatti vedo Ernesto Di Girolamo e Cristian Marancio per Campania Like so che è nata questa sinergia con Tele Capri molto buona le abbiamo sguinzagliati lì fuori stanno dalle 4 del pomeriggio Napoli stava ancora a Napoli e loro già stavano lì fuori Ernesto Michele in realtà siamo da ieri qua praticamente abbiamo anche fatto le pulizie a Rosatti per dire la verità quindi siamo veramente qui da ieri però siamo veramente felici di vedere soprattutto un albergo e una zona chiaramente dove arriveranno tra una mezz'oretta i giocatori del Napoli praticamente circondata di tifosi colori azzurri tantissimi bambini tantissimi bambini e insomma un entusiasmo da Campioni d'Italia pronta ad accogliere i Campioni d'Italia ovviamente con tanti primavera al seguito però Rudy Garcia potrà mettere le mani in pasta in maniera importante sulla squadra sarà chiaramente una prima parte di ritiro con dei giocatori che sono morti della primavera però se per voi va bene andiamo a raccogliere un po' di diciamo così impressioni dei tifosi Michele che dici? Ernesto noi ritorneremo con te a raccontare quella che è il bagno di folla che è all'esterno del Rosatti le immagini che saranno registrate poi verranno messe in onda a partire dalle 21 nella trasmissione che vedrà protagonista il direttore Paolo Del Genio insieme a Pier Paolo insieme a tanti altri ospiti tutte le sere dalle 21 in prima serata su Telecapri Ernesto Cristian grazie a voi raccogliete un po' di pareri un po' di cori un po' di festoni vari da parte dei tifosi lì all'esterno dei Rosatti grazie Ernesto grazie Cristian perfetto ragazzi a dopo Michele stasera la trasmissione la facciamo io Pier Paolo Matrone Guido Gaglione e Venere Federico ma Venere Federico è l'editrice e la direttrice di Telecapri però noi almeno io per quanto mi riguarda non sopporto i raccomandati quindi la presenza di Venere Federico non è perché diciamo è un poco poco raccomandata in quanto la televisione è sua ma è perché c'è stato ma io ve lo devo dire perché i feedback bisogna raccontarli come sono perché ci sono i social che lo dicono chiaramente c'è stato un feedback positivo sulla sua presenza in trasmissione quindi diciamo che la verità è questa che essendo sua la televisione qualcuno deve uscire quindi siamo tutti quanti a rischio esatto perché il giorno che lei decide di prendere il posto di qualcuno e non aggiungersi qualcuno di noi deve essere sbattuto fuori quindi attenzione che Venere Federico arriva non riesco a capire perché stavi guardando me mentre dicevi qualcuno deve essere sbattuto però va bene così io ritorno rischiamo tutti da me in giù dico da me in giù senza presunzione diciamo da me che occupo un ruolo un po' più importante a tutti quanti che collaborano siamo tutti a rischio perché è più importante di chi comanda la televisione chi ci sta esatto scherzi a parte noi ritorniamo puntuali domani dalle 18.30 per raccontarvi quello che sarà stato il primo giorno di ritiro del Napoli sul campo di Carciato con tanto di arrivo che invece verrà raccontato stasera a partire dalle 21 con la prima diretta qui da Di Maro Forgarita in Piazza Madonna della Pace con il direttore Paolo Del Genio con Pierpaolo Matrone che ritroveremo anche domani alle 18.30 grazie Pierpaolo grazie a te Michele un saluto a tutti ci vediamo tra poco e ci vediamo anche domani qui per il Napoli sotto le capre direttore grazie io nel frattempo le preparerò anche un'ottima cena se lei è d'accordo quando? alle 22.30 le farò trovare un'ottima cena alle 22.30 va bene mi devo fidare non lo so lo racconteremo domani volevo chiudere con quello che era il film in programmazione e volevo chiudere anche con un indovinello chiudo con un indovinello pesa di più mezzo coniglio vivo o mezzo coniglio morto la risposta ve la daremo domani ce l'hai? qual è? uguale ve la dico domani ciao a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti